Un attacco hacker in piena regola è quello che hanno subito i server di Alia, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in 49 comuni toscani, tra i quali Firenze, Prato e Pistoia, tutto l'Empolese Valdelsa. I sistemi dell'azienda sono in tilt da domenica. I criminali informatici hanno chiesto 400.000 euro di riscatto per riavere indietro i dati che hanno rubato. I vertici dell'azienda hanno presentato denuncia alla Polizia Postale e alla Garante della Privacy, un attacco in tutto e per tutto simile a quello che coinvolse nell'agosto scorso la Regione Lazio. Le indagini si muovono per tentata estorsione e accesso abusivo ai sistemi informatici. L'attacco hacker ha fatto saltare le agende per il ritiro dei rifiuti. Serviranno giorni per tornare alla normalità.